Vorrei ringraziare i miei alunni che sono qui oggi e i miei amici, grazie. Cara Jenny, allora che cosa ci fai oggi, figlio? E perché? Con questa scelta... Sì, vorrei farvi ascoltare un pezzo molto bello, importante, e hallelujah. Un po'. Soprattutto sono stati i miei alunni a spingermi a riprovare, quindi... Dove mai questa scelta, hallelujah? Ho sempre amato cantare da piccola, questa canzone racchiudo un po' tutte quelle che sono le mie emozioni, quindi vorrei trasmettervele. Giovanna, il palco è tuo. Sì. 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 Sì.